Ed ora cambiamo argomento, l'Europa ci chiede da circa 15 anni un uso consapevole dei metodi di trasporto per limitare le emissioni nocive, però nonostante ciò ogni nazione in Italia, ogni regione prende provvedimenti singolarmente durante i momenti di emergenza come è avvenuto pochi giorni fa con i livelli di PM10 alle stelle anche a Cremona. Sarebbe giusto attuare provvedimenti nuovi e duraturi. Di questo parliamo questa sera con il nostro ospite che è Pier Carlo Bertolotti, presidente della FIAB a Cremona. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Dunque, provvedimenti emergenziali che vengono attuati nel momento dell'emergenza, che però non sortiscono poi gli effetti che dovrebbero avere, è così? Sì, perché in effetti così in questo settore come in tanti altri in Italia purtroppo si lavora sempre solo sulle emergenze e mai sulla prevenzione, mai con piani a lungo termine. Noi in modo particolare cerchiamo di promuovere tutte quelle azioni che possono permettere di migliorare la qualità dell'ambiente, quindi agevolare l'utilizzo della bicicletta piuttosto che altri mezzi molto più inquinanti. In Italia c'è un numero di autoveicoli molto più elevato che neanche in tutte le altre nazioni europee e questo ovviamente influisce. Come abbiamo già detto più di una volta, è chiaro che l'inquinamento ambientale dato dalle polveri prodotte dalle automobili non è la maggior parte, la parte predominante, però contribuisce in maniera rilevante. Quindi da parte di ogni amministrazione sarebbe buona cosa utilizzare tutti quegli strumenti che possono disincentivare o comunque limitare l'utilizzo dell'autoveicolo privato, dando maggiore spazio all'utilizzo del mezzo pubblico o privato nel caso della bicicletta piuttosto che dell'automobile. Ecco, nel caso della bicicletta è necessario però potenziare e sviluppare quelle che sono le piste ciclabili? Certo, questo è sicuramente una componente fondamentale perché in una città se la popolazione che utilizza, sceglie di utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano sia per andare a lavoro che per divertirsi o per andare a fare la spesa, si trova nelle stesse condizioni di un'automobilista, quindi strade, segnaletica corretta, continuità, è chiaro che da questo ne trae vantaggio e si possono innescare tutti quei meccanismi di competitività e di utilizzo delle buone pratiche per far sì che il numero delle persone che utilizzano questo mezzo possa aumentare sensibilmente nel corso degli anni. E a Cremona com'è un po' la situazione per quanto riguarda le piste ciclabili? Beh, in questo momento rispetto agli anni scorsi è ancora in una fase ibrida, nel senso che cambiamenti rilevanti ancora non ci sono stati, ma lì si stanno preparando. Si stanno preparando perché nell'anno passato il Comune e l'amministrazione hanno presentato quattro progetti alla Regione, sono stati cofinanziati, sono progetti molto importanti e che riguarderanno quattro vie di grande traffico, che sono via Mantua, via Le Trento Trieste, via Brescia e via Bergamo. Riuscire a costruire quattro piste ciclabili lungo queste direttrici permetterà una lunga continuità, che è quello che dicevo prima, in sicurezza, permetterà i collegamenti con la prima periferia e la stazione o il fiume e con percorsi cicloturistici regionali o nazionali che intersecano Cremona. Voi come FIAB naturalmente promuovete l'utilizzo della bicicletta, come accolgono appunto i cittadini queste sollecitazioni ad utilizzare questo mezzo di trasporto, tra l'altro anche molto divertente? I cittadini lo accolgono con favore, naturalmente lamentandosi principalmente delle due cose che dicevamo prima, la paura del traffico e anche la paura del furto. Quindi attraverso questi strumenti che vorremmo attuare dovremmo cercare di limitare queste paure e far sì che la gente utilizzi con maggiore facilità e ancora più con allegria la bicicletta. Benissimo, ringraziamo il Presidente Bertolotti per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi.